Pronto? Sì, sono io. Come? Davvero? Sì, si, arrivo subito. Sole, è incredibile. Ho lasciato il mio numero di cellulare per un lavoro e ora mi hanno richiamato per un cuore. Giuro, questa volta è vero. Vado a preparare. Oddio, farò mai niente da mettermi. Nalda, credo che Nalda vi ha parlato di me. Come no, certo. Piace di essere, sono Carlotta e possiamo prendere un prodotto. No, no, grazie, andiamo via subito. Prima di andare, però. Ci direi che cosa fa l'unico con lei. Ah, lei non ci dice. Cosa spiegare. Sono le due parole, ma bene lo stesso. Più pochia questi. Bene, adesso ne dobbiamo andare. Questo è proprio tardi. Sì. Mettiamo per la macchina che raggiungo subito. Subito. Arrivederci. Che bene, vale? Sapevamo che cos'è che fai con questo? È semplice, mi ha assunto e ora mi ha portato a lui che è andato a portofino. Non ho mai due volte la stessa spazzolina, l'ho detto? Guarda che no, io l'ho risolta alla radice. Mi sono liberata dalla dipendenza della macchina di credito usando la sua.